Benvenuti su Meteo Giuliaci. Che tempo farà domani, mercoledì 7 febbraio? Bene, un vortice di bassa pressione attualmente sulle Baleari sposterà domani il suo centro sull'Italia. Quali saranno gli effetti? Bene, pioggi diffuse qua e là anche forti su tutto il centro-sud. Pioggi deboli invece intermittenti sulla regione di nord-est, deboli nevicate anche in pianura nel Conese, qualche nevicata fino a bassa quota sulle Alpe orientali. Temperature. Farà freddo al centro-nore per l'arrivo di venti più freddi dai Balcani, mentre al sud le temperature saranno intorno a 14-15 gradi, nei valori massimi, per effetto di venti più caldi richiamati dal nord-Africa, dal vortice di bassa pressione. Termino qui, un caro saluto ancora da Maria Giuliaci.